Ehi bambini, siete pronti per una grande festa? E allora venite con noi! Il 12 e 13 maggio andiamo tutti a Lecce! Sì, c'è Bimbo & Family! L'Easy Town e Cartunito vi aspettano! Dai venite, ci divertiremo tantissimo! Come commenta la vittoria di Paolo Perrone su Lecce? Una vittoria straordinaria che è il frutto di una capacità del sindaco di ascoltare e di elaborare progetti per la città, ma anche un gioco di squadra che ha portato il PDL fuori dall'isolamento con una coalizione composita, ricca, di partiti nazionali Futuro e Libertà ma anche di movimenti di ordine locale, il Movimento Regione Salento e partiti che vanno oltre anche la stessa Regione Puglia ma si estendono in tutta Italia Meridionale come Io Sud e Grande Sud. È una bella vittoria! Lo supporterà nella formazione della Giunta? È evidente che ai partiti toccherà mettere in campo una collaborazione che consenta al sindaco di semplificare il compito che è suo, a cui la legge fa riferimento e il sindaco a indicare e a nominare gli assessori e quindi, ripeto, noi saremo sicuramente di supporto e sono convinto semplificheremo il lavoro del sindaco.